Io mi sento onorata di far parte di questo tour mondiale del Vespucci portando appunto la musica italiana nel mondo e sono felice quando arrivo in una nuova tappa e so che il concerto è sold out e c'è bisogno anche di replicare domani faremo un altro concerto quindi sono molto felice, fiera, emozionata perché la musica italiana ha qualcosa di unico direi di speciale amata, riconosciuta in tutto il mondo, tocchiamo anche la musica napoletana quindi insomma è qualcosa che mi rende orgogliosa e appunto essere, far parte di questa grande squadra, di questa grande famiglia del Villaggio Italia, del Vespucci che si muove proprio per promuovere, raccontare l'Italia e le eccellenze italiane nel mondo. Insomma sono felice e aspetto il prossimo appuntamento.